Comunque questo l'avevo già registrato ma ho perso la registrazione degli universi in una parte del nostro mondo si trova una strana città quanti amici abitano qua ci sono anche i cartoni ci sono tanti altri amici che incontriamo insieme dobbiamo sconfiggerli con il potere dei nostri trasformazioni noi siamo gli universi andiamo a sconfiggere il mondo noi siamo gli universi con il polo di vostro potere sconfiggiamo tutto anche quando diciamo i cattivi siamo i supereroi una vera squadra si gli universi gli universi tomorrow land parte 3 oggi a tutti siamo tornati con le recensioni video oggi recensiremo gli universi remake episodio 7 tomorrow land parte 3 in questo nuovo episodio poi farò anche l'episodio torrifatto e poi passerò anche altri video vediamo comunque non rompete il computer sbattendo così capito potete spegnere con questo tasto ti piace i gio questi giochini che li ho messi dal mio computer così non posso sbattere in questo episodio di universi remake doraimo spiega a questi qua a wonder woman anti flash perchè è l'unico criminale hanno tolto bat woman cattiva potevamo mettere togliere anti flash ma anti flash fa parte dei buoni chissà perchè batman superman e bat woman per adesso di personaggi 3d ho questo ho superman e batman questi che prossimamente compariranno anche nei miei universi e anche wonder cioè harley queen così che poi prossimamente vedrete l'episodio 9 all'opera e qua c'è come dici superiors dei luni toons dei teneroni la menda bici della merenda abbiamo daffy duck superman porchi big robina bax e porchi big superman bax bunny superman e bat silvestro silvestro batman che forse brie 2 mi riceverà per posta vabbè Doraemon spiega Che hanno combattuto molto bene Si Che spiegano ai buoni Che hanno sconfitto Vabbè Non voglio fare spoiler Lo devono dire a quegli altri buoni protagonisti Che c'è anche Giulia Nella scorsa registrazione avevo un Va bene Poi Lauro e gli altri nemici Anche il vecchio di Tomorrowland E Shoko Vogliono fare la sconfitta Tra questi qua Quando è arrivato il circo Che il circo è una borsa Va bene Una borsa Loro I supereroi Dici Kidderjoy E ABC della merenda Si nascondono per sconfiggere Che nel frattempo il vecchio di Tomorrowland Si scatena la votaria E il vecchietto di Tomorrowland È sempre un tipo La mia scena preferita di questo episodio È Taboo Che dice Mi mangio mille giorno Vuoi sapere perché Sei tutto naturale Niente meglio di te Taboo usa i primi proiettili Che fa lo spot pubblicitario di Taboo su Italia 1 Con il logo vecchio E li manda i proiettili E i proiettili normali Cioè Le caramelle Taboo E Gli altri Sconfiggono I primi proiettili di Taboo Sono sempre impapinato le parole in ogni video Anche se sbaglio Vabbè Wonder Woman usa lo scudo per Eliminare i proiettili Ma quando Taboo Fa di nuovo lo spot Che è la mia scena preferita in assoluto Usa i proiettili ultra Cioè Le Taboo bianche E poi Tutti che vanno a sconfiggere Che sono le più potenti Delle Proiettili di Taboo Eccetera eccetera Avete capito Tutti i supereroi Kinder Joy E ABC della merenda Hanno sconfitto Tutti i nemici Cioè Narconarcesco Alvin Taboo E tutti Con l'arrivo Di Sapete chi è Barbapapà Che Lo potete Prendere Il suo confiabile del Barbapapà Nei super pasqualoni Ma Non c'è mai più Ok E Barbapapà Li sconfigge Così E fa E poi alla fine Porchi Pig E gli altri Che Non ho vinto Non sono come Porchi Pig Che impappinano le parole E si potevano festeggiare Che hanno sconfitto Tutti il Tomolente Tutto il circo Adesso una domanda Per Tedis Ciao Elisa And Friends YouTube Pop e Confidence Grazie a Paolo Che l'ha chiamato Comunque Lo sapevi che c'è Hello Kitty Super Style Su 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 Raioio Alle 7 e 15 del mattino Che Paolo è ancora addormentato Vero Katu Che lo stiamo seguendo Sì Ed è un capolavoro Lo Kitty Super Style È bellissimo Bellissimo Speriamo che Paolo Lo guarda Su Rayplay E farà una recensione Su parlando Dei cartoni in vatti Giusto Katu Sì Sono contento Che tu Hai ricevuto Il sacchetto Di patatine Di Lo Kitty Con i specchietti Vero Sì Sono contento Vado a vedere Un altro episodio Di Lo Kitty Super Style Ma Katus Ricordati di trovare Le patatine Di Lo Kitty Io trovo sempre Quelle delle Wings Che fortunato Sonic Hai chi lo dici Mi piace molto Sonic Lunedì Prossimo Prossimo Recensiremo La San Carlo Yuno Patatine Senza Gruttini Di Sonic Va bene Questo è tutto Gente E noi Ci vediamo Alle prossime Recensioni Video Con L'episodio 8 Di Universi Remake Anche se Non esce Ogni settimana Perché Lisa Ha sempre Molto occupato Vero Sì Ma Gli universi Normale Continuerà Continuerà E prenderò La gente Va bene Va bene Va bene Vecchio di Tomorrowland Vecchio di Tomorrowland Allora